. Barcellona, parla Valverde, dembele titolare? Non ho deciso ancora. Iniesta? Andresa è un patrimonio del club. . Alla vigilia del match contro l'Espanio, il tecnico del Barcellona ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa, è meglio affrontare un derby come gara in cui avere di nuovo al fianco i tifosi. . L'unica cosa negativa è la tempistica, solo oggi, ieri, avrò tutti i calciatori a disposizione per l'allenamento. Sono forti e bisogna essere attenti. . La cosa positiva del mercato estivo è il fatto che sia terminato. Dobbiamo concentrarci sui giocatori che abbiamo, i migliori del mondo. . Altro argomento caldissimo in casa blaugrana è il rinnovo di Andresa Iniesta, sul quale non vi sono ancora certezze, Iniesta? Andresa è un patrimonio del club, sta bene, è contento ed ha intenzione di difare ancora tanto in questo club. . 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